Come Commissione regionale pari opportunità nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai nuovi direttori generali della Regione Basilicata, certamente di riconosciuta competenza, non possiamo fare a meno di esprimere il nostro disappunto per l'assoluta assenza di donne tra le persone nominate e la dichiarazione della Presidente della Commissione regionale pari opportunità Margherita Perretti all'indomani della nomina dei nuovi direttori generali da parte dell'Aggiunta regionale. Certamente, precisa Perretti, non c'erano quote di genere da rispettare, ma una visione innovativa, inclusiva e democratica della governance di un territorio dovrebbe andare oltre e comprendere che la presenza di entrambi i generi consente una migliore gestione della cosa pubblica, come ormai ampiamente dimostrato. La Presidente della Commissione regionale pari opportunità evidenzia poi un dato negativo per la Basilicata, che continua ad essere il fanalino di coda rispetto alle altre regioni in tutti gli indici e le classifiche relative alla presenza femminile ai vertici politico-istituzionali. Purtroppo, conclude Perretti, non si intravedono cambiamenti all'orizzonte.